Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro, leggo su ilgiornale.it che l'America ha esortato i suoi cittadini ad abbandonare la Bielorussia, l'ambasciata americana in particolare ha esortato ad abbandonare la Bielorussia e quindi come vedete i venti di guerra continuano a soffiare impetuosi. La Bielorussia di Lukashenko come sappiamo è uno dei principali se non il più fedele alleato di Mosca, lo è da vecchia data, è un rapporto consolidatissimo in loro, sono quasi fratelli da un certo punto di vista questi due stati che un tempo erano unificati sotto il segno dell'Unione Sovietica e che poi dopo lo smembramento post-perestroica e post-fine dell'Unione Sovietica si sono separati anche se continuano a essere unitissimi a differenza di altri stati tra cui l'Ucraina stessa che non fanno altro che creare problemi a Mosca. Insomma, i venti di guerra continuano a spirare con buona pace di coloro i quali pensavano che la questione bellica si dovesse risolvere nel giro di pochi mesi, sembra che vada peggiorando anzi la situazione e soprattutto pare che Mosca e i suoi più fedeli alleati non vogliano saperne di capitolare, di genuflettersi rispetto all'imperialismo di Washington, quell'imperialismo che utilizza il guitto Zelensky, attore nato con la N maiuscola prodotto in vitro di Washington se non di Hollywood come marionetta in funzione antirussa. Ebbene la Russia con Putin non vuole piegarsi ed è disposta a continuare nel conflitto. Quali saranno gli sviluppi? Lo vedremo, lo scopriremo solo vivendo per parafrasare in questo caso non Hegel e Spinoza ma Lucio Battisti. Intanto una cosa è evidente, il fatto che l'America ora esorte i propri cittadini ad abbandonare la Bielorussia non è un buon segnale per quel che riguarda il conflitto e la sua prosecuzione. Insomma la Bielorussia si riconferma alleata di Putin e con buona pace di quanti bollano Lukashenko come un nazista, ricordiamo che Lukashenko fu comunista della primora e si oppose anche alla dissoluzione dell'Unione Sovietica rimanendo sempre comunista e anche ora in ossequio al suo comunismo delle origini continua a battersi come un leone contro l'imperialismo a della stella e striscia.